qui ho il mio pc che sta lavorando il disco, ogni tanto ho dei blocchi, scusatemi ecco, dicevo, ecco, queste opzioni addirittura aumentano ancora di più le capacità dell'autocompletamento di phish quindi va oltre il comando come bash che vi suggerisce anche lui i comandi ma questo va oltre addirittura con le opzioni eccezionale direi questo lo si apprezza veramente durante l'utilizzo adesso al di là del fatto che ho scelto un'opzione a caso si apprezza molto questo aiuto perché i comandi sono tanti e non tutti sono esperti di tutti i comandi vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po' dove sono finito, ecco ero qua dunque, lettura dei manuali, poi posso digitare un comando, ecco l'ho detto, l'abbiamo appena visto tra l'altro c'è anche la ricerca anche lì, mi sembra di averla vista, possiamo vederla ancora se io richiamo queste cose, poi magari applico la ricerca ecco vediamo un po' se è vero quello che dico, ecco anche qui c'è il filtro ricerca libera e quando sono tante le opzioni, un po' come per i file e le cartelle io posso usare la funzione di ricerca iniziando semplicemente a digitare una volta che sono nell'elenco delle disponibilità di opzioni posso iniziare a digitare e scremare l'elenco delle opzioni disponibili ecco, anche questo è tutto integrato, tutto comodo a vostra disposizione bene, andiamo avanti, sperando che il video non abbia subito difetti di registrazione mentre il mio disco era occupato del pc un attimo fa, non lo so, speriamo comunque, abbreviazioni, passiamo al capitolo dell'abbreviazione le abbreviazioni cosa sono? sono quell'oggetto che si può definire in fish che abbiamo già citato anche queste nella parte 1, nel capitolo 1 di questo corso e le vediamo più in dettaglio qui giusto per vederle in pratica cosa sono dunque, le abbreviazioni, come dice il nome, sono delle abbreviazioni ovvero, sono degli acronimi, quindi delle sigle brevi lo scopo del quale è sostituirsi a un comando più lungo quindi, se io uso spesso un comando di una certa lunghezza non voglio digitarmelo tutte le volte posso crearmi un'abbreviazione, quindi sigla di poche lettere che mi richiama quel comando ecco, questo è lo scopo delle abbreviazioni dunque, abbiamo visto nella parte 1 del corso che possono essere impostate via web oppure si possono impostare naturalmente anche non via web essendo fish una shell appunto a interfaccia a carattere quindi si possono impostare dove sono le abbreviazioni sono impostate in questa variabile particolare, riservata che si chiama fish user abbreviations quindi, se io stampo il contenuto di questa variabile eccola qua vedete che in questo momento ci ritroviamo con le due abbreviazioni che abbiamo già visto nella parte 1 del corso ovvero due semplicissime banali abbreviazioni che ho creato con il nome n1 che non fa nient'altro che riferirsi a questo comando eco variabile editor ed n2 eco variabile version di shell della fish in quanto tale sono veramente due abbreviazioni senza nessun significato pratico è solo per mostrarvi il meccanismo quindi una volta che sono definite queste abbreviazioni delle quali qui dico come si possono impostare nella variabile fish user abbreviation quindi possiamo anche aggiungerne ormai le variabili abbiamo imparato ad usarle vedete qui ne ho due di abbreviazioni e volesse aggiungerne una riempirei la dimensione, l'indice 3 di questa variabile con la nuova abbreviazione eccetera eccetera oppure potrei anche eliminarle eccetera eccetera svuotare questa variabile per eliminare tutte le abbreviazioni eccetera eccetera fatto sta che non stiamo qui a ripetere l'uso delle variabili perché l'abbiamo visto ecco comunque tutto si gioca in questa variabile se in questa variabile di sistema fish quindi riservata sono presenti delle definizioni di abbreviazioni queste abbreviazioni sono attive se non c'è nulla non abbiamo abbreviazioni nel nostro sistema appunto hanno senso a queste abbreviazioni dico e ripeto anche qui se sono brevi sigle che sostituiscono comandi ben più lunghi ovviamente quindi basta digitare un'abbreviazione come si usa questa abbreviazione la si digita quindi vediamo per esempio l'n1 io digito n1 e poi premo lo spazio quindi la barra dello spazio e vedete che immediatamente fish mi sostituisce l'n1 con il mio comando più lungo pronto per essere eseguito naturalmente faccio enter mi esegue questo comando che mi torna nano in questo caso oppure premere enter al posto dello spazio per espandere il comando ed eseguirlo immediatamente quindi se non ho dubbi posso semplicemente digitare n1 faccio enter lui mi espande l'abbreviazione e poi me l'esegue immediatamente ecco questi sono appunto due banali esempi che avevo preparato quindi l'n2 enter e mi torna la versione attuale che sto usando di fish adesso in questo momento ripeto per comandi più lunghi questi sono proprio esempi didattici giusto per far capire il meccanismo comandi più lunghi hanno un senso quindi più è corta la sigla è facile da memorizzare per me più ci guadagno se ho un comando bello lungo che segue qua ecco quindi vedete vi ho detto anche come eventualmente potete ampliare o restringere la vostra disponibilità di abbreviazioni è una modalità di utilizzo di fish interessante trovo anche questa a dipendenza delle esigenze di ognuno è una semplice variabile quindi attenzione è una variabile universale quindi si deve mettere set meno u come abbiamo visto nel video nella parte del corso dedicata alle variabili e poi si specifica semplicemente il nome dell'abbreviazione uguale al comando che deve essere eseguito esattamente come vedete qui praticamente questo è il contenuto della dimensione di questa variabile lista particolare tutto lì andiamo avanti siamo quasi quasi verso la fine il raggruppamento dei comandi ecco c'è un comando dedicato in fish esiste un comando dedicato che si chiama begin si chiude con end che ci permette di raggruppare una sequenza di comandi e farlo diventare un blocco di codice viene chiamato blocco di codice ecco quindi cosa ci serve il blocco di codice per esempio ad eseguire le operazioni di questi comandi e ad inviare l'output finale di questa serie di comandi viene inviarlo a un altro comando per esempio o a salvarlo l'output di questi comandi su un file per esempio ecco giusto per confrontare le funzionalità in bash si scriverebbe così questa cosa ecco per esempio un banalissimo anche qui esempio eseguo due volte il comando ls e con questo simbolo di piping lo mando al comando vc che conta le parole insomma che escono da questi comandi oppure per salvare su un file si fa la deviazione dell'output verso il file comunque la forma infish corrispondente è begin ls ls end quindi al posto delle parentesi graffe si scrive praticamente begin e end e poi il pipe e il vc rimane uguale è il comando wc per contare le parole possiamo anche vederlo lo replico qui rapidamente giusto per mostrarvi che funziona quello che c'è scritto lì e poi pipe verso vc quindi due volte l'esecuzione di ls vuol dire che mi è tornato 24 byte parole 378 lettere queste cose qui insomma bagna se non mi ricordo esattamente queste tre voci una cosa vuol dire l'altra ma il succo è che abbiamo creato questo blocco di codice che viene eseguito prima di mandare l'uscita il risultato di quel blocco di codice di mandarlo verso un altro comando questa è una forma di comando tra l'altro già che ci sono il punto e virgola serve a descrivere a digitare il comando su una singola riga vedete qui begin punto e virgola ls ls punto e virgola and potrei anche scriverlo interattivamente non con i punte virgola ma su più righe quindi ls ls and è un blocco di codice vedete che fish interpreta il blocco di codice e lui mi fa appunto lsl due volte ls il contenuto di questa cartella è la stessa cosa quindi scritto diciamo così un comando in orizzontale si devono separare tutte le parti dei comandi con i punti virgola vale per tutti i comandi è questo anche scrivessi due eco di fila eco 1 punto e virgola eco 2 punto e virgola eccetera eccetera e questo vale appunto per qualsiasi comando oppure lo scrivo in forma più come dire stesa ordinate in verticale non in orizzontale semplicemente sfruttando una riga dietro l'altra di questo blocco in questo caso ecco quindi ne ho profittato per mostrarvi questa forma che è uguale anche per bash tra l'altro se voglio descrivere più comandi su una stessa riga li separo con un punto e virgola è la stessa cosa voilà fish non usa sotto shell anche qui un po' come dire fish non consente di definire delle costanti prendiamo atto del fatto che fish non usa sotto shell che anche usando bash magari non ce ne rendiamo conto noi come dico sempre gli utenti comuni non ce ne rendiamo conto ma in bash quando viene eseguito un comando viene sfruttata una sotto shell in questo caso in questi comandi un po' identico a quello sopra quasi quando viene eseguito questa serie di comandi in questo modo in bash in realtà questi due comandi ls uno dietro l'altro vengono messi fra parentesi tonde vengono eseguiti in un come dire in una sessione di shell temporanea a parte chiamata appunto sotto shell o sub shell poi si esce da quella sotto shell si ritorna in quella principale e l'output il risultato di questi comandi viene appunto inviato al comando vc wc in fish non avviene ciò perché non usa appunto delle sotto shell ma è sempre la shell principale che agisce e si può simulare però la stessa situazione qui appunto con lo stesso comando praticamente che abbiamo visto sopra quindi il begin ls ls end pipe wc fa la stessa cosa il risultato identico che usare questa forma pur non usando una sotto shell ecco quindi questo è quello che volevo sottolineare anche questo questo aspetto prendiamone atto non importa sì e no basta sapere che un blocco di comandi lo si può specificare in questo modo e siamo a posto così il debug ecco il debug degli script quindi quando noi creiamo degli script più o meno complessi più o meno lunghi possiamo avere bisogno di verificare perché uno script non funziona come pensiamo noi non funziona come desideriamo noi è possibile chiunque sviluppi del codice sa che è praticamente impossibile ottenere il risultato già definitivo al primo colpo quindi bisogna indagare il codice ecco appunto stavo dicendo ho dovuto fermare un attimo la registrazione perché c'era qualcosa che stavo occupando il mio pc non so bene cosa comunque vabbè andiamo avanti dicevo ecco breakpoint è un comando dedicato di fish che ci permette di di fermare l'esecuzione dello script in un certo punto di ottenere un prompt e di verificare per esempio il contenuto delle variabili del nostro script in quel momento o anche di modificarle al volo per influenzare il prosieguo dello script eccetera eccetera il lavoro dello sviluppatore che verifica il suo codice e vede dove ci sono cose che non funzionano e vanno corrette ecco queste cose le abbiamo già anche viste nel corso bash quindi se l'avete visto sapete già di cosa sto parlando comunque esiste proprio un comando breakpoint voi lo inserite questo comando voi lo inserite su una riga per conto suo in ogni punto dove volete che si fermi lo script fate partire lo script e si fermerà ogni volta che incontra breakpoint e lì potete fare quello che volete con le vostre variabili eccetera eccetera poi finite le verifiche potete proseguire con lo script digitando il comando exit ovvero fate partire lo script incontra il comando breakpoint esce un prompt come questo quindi in quel momento lo script è pendente è sempre lì operativo ma si è fermato voi fate le vostre verifiche per andare avanti fino al successivo breakpoint o alla fine dello script digitate exit come se voleste uscire dal vostro terminale e lo script riparte da lì e si fermerà il prossimo breakpoint eccetera eccetera ecco questo è diciamo la modalità di debug ovvero di verifica del codice che fish mette a disposizione già integrato poi l'ultimo capitolo di questo video è la gestione dei job che è un po' una cosa probabilmente la sfrutteremo poco o nulla però è da conoscere anche questa per sapere che esiste appunto quindi quando in una sessione di fish è attiva e si fa partire un altro programma che occupa la console ovvero il terminale ovvero io sono qui faccio partire un programma tipo nano l'editor nano che mi occupa questo questo terminale quel programma che ho fatto partire assuma appunto il ruolo di job ovvero tradotto in italiano vuol dire lavoro ecco in gergo e job è un qualcosa un lavoro che è stato dato da eseguire al nostro pc e alla nostra macchina quindi stiamo parlando comunque di programmi con interfaccia caratteri come ad esempio appunto il classico nano e tutti questi programmi per tra virgolette come dire standard riconoscono la scorciatoia da tastiera ctrl z per essere messi in stato dormiente per essere interrotti cosa vuol dire che se io faccio partire per esempio nano ecco sono qui facciamo un po' di pulizia sono qui nel mio terminale faccio partire l'editor nano e in questo momento non ho più a disposizione il mio prompt di terminale perché sto usando nano che mi sta occupando è la mia interfaccia non posso fare altro che usare nano in questo terminale però usando la scorciatoia ctrl z che è appunto ripeto uno standard per praticamente tutti i programmi da terminale uso ctrl z ed ecco che cosa mi dice usare il comando fg per tornare a nano e nano è stato stoppato è stato fermato non è che siamo usciti da nano nano è lì dietro le quinte però qui sono tornato alla mia normalissima shell fish e posso andare avanti a lavorare in questo momento però nano è lì dietro da qualche parte se appunto digitiamo fg come suggerito da fish torniamo esattamente dove eravamo vedete non ho perso nulla perché nano è ancora lì ripremo ctrl z ho rifermato il mio il mio job cosiddetto vedete job 1 nano è di nuovo fermo però è sempre lì posso premere digitare il comando fg per tornare a nano e viceversa eccetera eccetera il comando jobs ecco esiste un comando in fish dedicato a queste a questi ambiti digital jobs e faccio enter e vedete che mi elenca tutti i job ovvero tutti i comandi bloccati pendenti che sono attivi in questa sessione di terminale perché io posso avere nano ma anche altri comandi da terminale che mi occupano l'interfaccia carattere non solo necessariamente un comando alla volta posso avere nano poi un altro un altro un altro quindi nano essendo il primo ha preso il numero uno come job il suo gruppo è questo stop eccetera e lì e lì pendente lo vedete lì nell'elenco se non ci sono job attivi naturalmente vedete qui ho riportato dice che there are no jobs cioè non ci sono job attivi in quel momento invece qui adesso che ho attivato nano c'è un job allora il comando fg serve appunto per abbandonare nuovamente la scella e tornare allo specifico job è quello che abbiamo visto prima fg sta per foreground ovvero in anteprima è in primo piano e serve appunto a riportare in primo piano il nostro nano come se ci fossero più job come si fa a tornare specificatamente a nano fg lo si può far seguire dal suo nome per cento uno si torna al job numero uno di nano eccolo qui job uno quindi faccio fg per cento uno e torno a nano vedete sono lì ristoppo nano e mi ritrovo di nuovo nella mia shell poi se c'è un problema ecco meglio che rimetto ecco l'elenco dei job ecco se c'è un problema con nano che si è bloccato che non funziona più voglio abbandonarlo non riesco più ad entrare in nano e sono lì bloccato e abbiamo la possibilità di come dire uccidere il processo di nano così come si possono uccidere i vari processi di un sistema linux con il comando kill normalmente qui non è specifico di fish questa cosa ma sfruttiamo una cosa di linux del sistema linux all'interno nell'ambito di fish per uscire da nano facciamo finta che nano abbia dei problemi perché naturalmente io potrei entrare in nano fare ctrl x uscire e uscirei normalmente ma facciamo finta che nano ha dei problemi lo devo tra virgolette uccidere e quindi stoppare forzare la sua fine e allora come faccio ho bisogno del numero del processo nel mio sistema linux al quale è stato associato questa sessione di nano e il numero del processo è questo sotto group la colonna group e qui c'è 21343 questo è il suo numero identificativo univoco all'interno di tutto il sistema linux che sto usando in questo momento e come faccio ho due due sintassi equivalenti una è questa usare il comando kill con l'opzione lineetta kill è il numero quel numero lì oppure kill meno 9 è lo stesso numero quindi usiamo una delle due poi uguale kill meno kill per dire e poi riportiamo quel numero lì il 21343 enter a questo punto mi dice che nano è stato terminato forzato quindi è stato forzato quindi non esiste più adesso il job nano se rifaccio il comando jobs vedete che mi torna il messaggio guarda che non ci sono jobs perché non c'è più nano io non posso più fare fg per 101 perché dice che non esiste quel processo non esiste più il job 1 quindi nano l'abbiamo ucciso quindi questa come dire questo capitolo sui job in realtà per usare la fish la shell fish in quanto tale ci serve relativamente buono da sapersi perché quando ho aperto una sessione di terminale se ho bisogno di nano temporaneamente tanto per restare sull'esempio di nano io posso aprire nano posso interromperlo con ctrl z e tornare dal mio terminale posso rientrare in nano eccetera eccetera senza dover aprire un altro terminale oppure un'altra scheda nello stesso terminale eccetera eccetera quindi usando sempre la stessa sessione di terminale ecco con questo ho concluso questo piuttosto lungo video anche perché c'era diversa carne al fuoco insomma di cui parlare e appunto con questo ho concluso e vi attendo alla prossima parte del corso su fish e vi saluto ciao ciao